Il nostro prodotto è la nostra piattaforma innovativa e tecnologica nell'ambito dell'industria 4.0 denominata con la CIPLA Energy. La nostra piattaforma è una piattaforma innovativa in quanto riesce a fondere due tecnologie, cioè quella del fotovoltaico, insieme alla predizione della manutenzione attraverso la Sionite Platform e alla gestione e la massimizzazione dell'autoconsumo. Quindi noi riusciamo attraverso la nostra piattaforma CIPLA Energy a cercare di ridurre quanto più possibile i costi in bolletta cercando di massimizzare quanto più possibile invece l'autoconsumo, quindi la propria produzione attraverso il fotovoltaico. L'utilizzo del fotovoltaico nella propria amministrazione e nelle aziende private perché è utile e perché sarebbe necessario che le imprese si muovessero lungo questo tipo di obiettivo. I fotovoltaico sono innumerevoli, non solo c'è la riduzione dei costi in bolletta, quindi dei costi che avvengono successivamente all'installazione dell'impianto, ma ci sono costi anche iniziali attraverso l'utilizzo dei superbonus. Per esempio un condomino può avere una spesa iniziale pari a zero di una pensilina fotovoltaica. Allo stesso modo attraverso degli incentivi industriali, si può avere uno sconto anche fino al 45% di una pensilina e quindi ad avere un ritorno dell'investimento pari a zero anni per i condomini o addirittura per l'industria e per le imprese, intorno ai 5 anni di un completo ritorno economico dell'investimento della pensilina fotovoltaica, che si traduce poi a 10 anni con un ritorno economico pari a 3.500 euro, che dovrebbe essere uscito a queste dimensioni per una pensilina fotovoltaica 8 costi o addirittura a 104.000 euro per una pensilina dopo 20 anni. Prezzi che fanno aumentare, quindi vantaggi che aumentano per i condomini nel caso di utilizzarsi il superbonus, per cambiare però da battere completamente in costituzione. A questi vantaggi si ha ovviamente l'utilizzo di un'energia pulita, che può essere non ovviamente quella solare, ma anche quella eolica, in quanto la Sibla Energy può integrare anche l'energia eolica alla pensilina, quindi avere tutt'uno con queste nuove tecnologie.